Grazie a tutti a questa conferenza stampa, è la prima conferenza stampa dell'istituto ed è dedicata a un'analisi dell'andamento dei prezzi al consumo nel 2023 perché oggi abbiamo diffuso il comunicato che dà i dati definitivi del mese di dicembre quindi è l'occasione per un bilancio dentro gli indici, oltre gli indici, come vedremo tra poco i colleghi del servizio hanno preparato del materiale statistico che offre una lettura che va un po' oltre il comunicato di oggi, o comunicato comunque ricco perché troverete oltre alle principali informazioni sugli indici l'andamento del paniere e anche approfondimenti che riguardano, come abbiamo fatto anche negli anni passati, l'impatto sui quintili di spesa. Io sono Davide Colombo, sono il direttore dell'ufficio stampa, con me c'è Alessandro Brunetti che è il responsabile del servizio che produce le statistiche sui prezzi al consumo, grazie Alessandro di essere qui. Abbiamo in collegamento una ventina di colleghi delle principali testate, io li ringrazio tutti e come al solito le regole d'ingaggio sono che basta alzare la mano per porre domande ad Alessandro, più domande arrivano e più sono benvenute naturalmente perché l'argomento è talmente vasto che si presta a veramente mille spigolature e mille approfondimenti. Prima di passare la parola ad Alessandro che ringrazio per il lavoro che ha fatto, dico solo che questo episodio di inflazione che abbiamo avuto tra il 22 e il 23 in particolare ha veramente offerto un'occasione clamorosa di approfondimento statistico su tutte le implicazioni, non solamente appunto sugli indici ma su tutte le determinazioni che a cascata si sono succedute che hanno accompagnato questa fiammata dei prezzi. Abbiamo visto per la prima volta la nostra banca centrale che ha a sua volta innescato una contromossa di politica monetaria che ha portato dall'estate sostanzialmente del 22 alla fine dell'anno scorso un aumento di 450 punti base, una cosa che da quando abbiamo la moneta unica non è mai avvenuta. In questo contesto proviamo a offrire una lettura come vedremo tra poco con Alessandro che oltre al 23 ci prova a dare una retrospettiva su quello che è successo negli ultimi quattro anni e che sui livelli dei prezzi risultati abbiamo davanti con i quali siamo chiamati a fare i conti anche semplicemente quando andiamo a fare la spesa. Allora io do la parola a Alessandro che adesso illustrerà un piccolo addendum, pillole per la stampa che distribuiremo alla fine della conferenza stampa a chi ha partecipato, arricchita da grafici piuttosto particolari che appunto spaccano, entrano e spiegano gli indici per come si sono mossi in questo quadriennio e poi le domande. Alessandro, prego. Allora grazie Davide dell'introduzione, come ricordava appunto il direttore ci è sembrato opportuno in occasione della uscita dei dati definitivi di dicembre fare un po' il punto della situazione sul ciclo dell'inflazione che ha caratterizzato l'ultimo triennio sostanzialmente. In effetti abbiamo vissuto una fase di ripresa dell'inflazione nel 2021 a cui è seguita nel 2022 invece la rapida accelerazione di questo aumento dei prezzi e poi subito seguita nel 2023 da un periodo di rallentamento dell'inflazione che ci ha lasciato appunto con un tasso ben al di sotto dell'1% a dicembre. Se guardiamo le variazioni medie annue partendo dal meno 0,2 del 2020, un anno sicuramente straordinario per altri motivi ma che comunque viene dopo un periodo in cui avevamo sperimentato comunque tassi di inflazione molto bassi. Vi ricordo che il dibattito all'epoca era sui rischi di un'eventuale deflazione. Nel 2021, come dicevo, l'inflazione risale, si porta in media d'anno all'1,9% e poi all'8,1% nel 2022. Il 23 anno di rallentamento dell'inflazione finisce con un tasso medio anno di crescita di prezzi al consumo del 5,7%. Ora, questo fenomeno di rientro dell'inflazione è chiaramente legato al fatto che le spinte che avevano sostenuto la dinamica dei prezzi nel 2022 è venuta meno. E' vero però che se si guarda con un maggiore dettaglio la dinamica degli indici ci accorgiamo che in realtà questo quadro generale si compone di andamenti piuttosto diversificati quando si scende appunto a considerare diversi settori del nostro paniere. Sempre rimanendo in un ambito generale, quello che anche ci lascia il 2023, proprio perché come vi ho detto è un anno che nel complesso si caratterizza per spinte sui prezzi piuttosto moderate, e il fatto che questo 5,7% di inflazione negli anni in realtà è in gran parte il risultato di un'eredità che il 2023 riceve dal 2022 il tasso di inflazione che viene ereditato nel 2023 dall'anno precedente, infatti è pari al 5,1%, quindi il contributo inflazionistico dell'anno che si è appena concluso è piuttosto modesto, è 0,5%, e a testimonianza di questo il trascinamento che il 2023 lascia al 2024 anche esso è molto molto modesto, è pressoché nullo, un più 0,1%. Se si guarda però, come dicevo, ai singoli settori del paniere ci si accorge che la situazione in alcuni casi è piuttosto diversa, se consideriamo i beni alimentari, la componente propria dell'inflazione, cioè quella che in qualche modo è stata prodotta dalla crescita dei prezzi nel corso del 2023, è pari a più 4,4%, quindi ben al di sopra del tasso di inflazione registrato a dicembre, con un trascinamento al 2024 del più 1,3%. Se guardiamo all'aggregato dei servizi, l'inflazione propria è anche piuttosto sostenuta, 2,5%, e spiega più della metà della crescita media che abbiamo misurato nel 2023, cioè 4,2%, quindi in realtà questo 4,2% è soprattutto il frutto di dinamiche che si sono prodotte nel corso dell'anno. Il trascinamento nel caso dei servizi al 2004 è più 0,8%. Ora, gli aspetti che volevamo considerare per dare un quadro più esaustivo di come si è evoluta l'inflazione in questo triennio guarda a differenti aspetti. Il primo, direi, è quello della diffusione delle tensioni sui prezzi dei singoli prodotti, e quindi io andrei alla prima figura. È questa qua. In effetti l'accelerazione dell'inflazione, che è iniziata già nella seconda metà del 2021, ma che poi esplosa, naturalmente si è manifestata in particolar modo nel 2022, si accompagna con un forte aumento della diffusione delle tensioni sui prezzi, e questo il grafico in qualche modo lo rappresenta, poi qui sono raffigurate gli andamenti mese per mese, dal gennaio 2020 fino al dicembre del 2023, dei valori del primo decile, primo quartile, il valore mediano, il terzo quartile, il nolo decile, dei tassi di crescita tendenziale dei prezzi. L'area, invece, rappresenta l'andamento del tasso di inflazione. Quello che ci dice, diciamo, ci sono vari modi per leggere questo grafico. Uno comodo è considerare il fatto che, per esempio, tra le linee arancione e gialla, tra quei due tassi di crescita, sono compresi il 50% dei prodotti del paniere. Più in generale, invece, tra le linee che compaiono in colore azzurro, più chiaro e più scuro, sono compresi l'80% dei prodotti del paniere. Questo grafico mostra appunto come, grossomodo, fino all'autunno del 2021, il range in cui si collocavano l'80% dei prodotti era piuttosto ristretto e comunque non superava il 5%, mentre questo valore, quello del nono decile, sale rapidamente sul finire del 2021 e raggiunge quasi tocco il 20% nel mese di picco, ottobre del 2022, quando l'inflazione è salita all'11,8%. Tutta la distribuzione si sposta verso l'alto e si amplia fino appunto alla fine del 2023, quando invece il fenomeno in qualche modo si inverte e i range in cui si collocano, i range di variazioni tendenziali in cui si collocano l'80% dei prodotti tende a restringersi, in particolare si restringe l'estremo superiore di questo intervallo. Nella figura successiva cerchiamo di approfondire un po' la questione ragionando su come cambia il peso, la figura presente fa riferimento ai prodotti, quindi a quanti, alla frequenza con cui i prodotti registrano certe variazioni di prezzo nel corso dell'anno, in questo caso invece l'accento è sul peso che hanno i prodotti con variazioni negative, positive, moderate o positive, marcate sul paniere e come si vede anche in questo caso la fase di bassa inflazione che aveva caratterizzato il 2020 e all'inizio del 2021 si accompagna con un peso relativamente alto di prodotti che hanno variazioni di prezzo negative, in gran parte moderate, cioè non superiore al meno 5%, ma insomma la loro incidenza in termini di peso non è trascurabile, mentre il grosso del peso del paniere è rappresentato o rappresenta prodotti che hanno variazioni di prezzo positive, ma comunque moderate, non superiori al 5%. La situazione cambia piuttosto velocemente con l'accelerazione dell'inflazione, o meglio l'accelerazione dell'inflazione riflette questo cambiamento che si verifica in modo piuttosto repentino nella fine del 2021 e nel corso del 2022, quando il peso dei prodotti che hanno riduzioni di prezzo si riduce nettamente e si riduce nettamente il peso dei prodotti che hanno variazioni di prezzo, che hanno diminuzioni di prezzo più ampie, tende anche a comprimersi il peso dei prodotti che hanno variazioni in aumento dei prezzi, ma di ampiezza più moderata, invece prende peso tutta quella componente del paniere, le cui variazioni si dimostrano piuttosto marcate, comunque superiore al 10%, lo vedete poi dalla gradualità dei colori. Anche in questo caso la fase di decelerazione si accompagna con un'inversione della tendenza per cui tendono a ridursi, si tende a ridursi il peso delle variazioni più ampie, anche se non scompare, riprende fiato il sottogruppo di quei prodotti, il peso dei quei prodotti che hanno variazioni comunque più contenute, non superiore al 5% e si risale anche il prezzo, il peso dei prodotti che hanno diminuzioni di prezzo. Ecco qui, diciamo, avendo detto qualcosa su come si è manifestato il fenomeno, quindi un fenomeno che ha coinvolto un numero, nella fase di ascesa dell'inflazione, un numero sempre più ampio di prodotti e con un peso via via crescente per poi invece traprendere un percorso inverso nel corso del 2023. Qui vogliamo vedere però quali sono gli effetti cumulati di questo ciclo di inflazione. È stato riportato anche negli organi di stampa, è stato al centro di discussione, il fatto che l'inflazione si sia rapidamente attenuata nel corso dell'anno, ma questo cosa vuol dire in termini di livelli dei prezzi? Possiamo dire che il rallentamento dell'inflazione in qualche modo recupera o annulla gli effetti della precedente fase di forte accelerazione dell'inflazione. Questo lo vediamo confrontando il livello dell'indice medio nel 2023 con il livello che aveva nel 2019, quindi nell'anno precedente alla fase piuttosto straordinaria che si è aperta prima con la crisi sanitaria e poi con l'ascesa dei prezzi. In questo caso quello che si vede è che ci sono almeno due settori importanti, quello dei beni energetici e quello degli alimentari, che registrano in particolare i beni energetici in modo estremamente evidente, variazioni sul periodo, variazioni cumulate sul periodo maggiori di quelle registrate dall'indice generale. L'indice generale tra il 2019 e il 2023 si è accresciuto del 16,2%, i beni energetici del 59,4%, gli alimentari lavorati e non lavorati stanno attorno al 21,5%, un po' più elevato per i non lavorati. Il resto dei settori del paniere mostra al contrario delle variazioni più contenute di quelle medie fino ad arrivare ai servizi relativi alle comunicazioni in cui invece su questo arco di tempo 2019-2023 si registrano una lievissima flessione dei prezzi, meno 0,4%. Naturalmente questi sono ancora una volta degli andamenti relativamente aggregati, perché poi come vedremo nel grafico successivo, se andiamo a dettagliare il modo con cui all'interno di questi singoli settori si distribuiscono le variazioni di prezzo, le variazioni cumulate di prezzo in questo triennio, ci accorgiamo appunto che sicuramente questa distribuzione mostra il peso dei prodotti che occupano la corrispondente classe di variazione del prezzo, misurata appunto in questo intervallo 2019-2023. Quindi quello che vediamo è che in generale una buona metà del paniere, più della metà del paniere, si colloca attorno alla variazione media registrata per l'indice generale. tuttavia quello che vediamo è che circa un quinto del paniere, 22,6% in termini di pesi, ha aumenti superiori al 20%, diciamo è la somma delle colonnine che trovate all'estrema destra del grafico. e se vedete la composizione che è rappresentata qui attraverso l'uso dei colori, questo quinto del paniere che ha delle variazioni superiore al 20% è prevalentemente costituito da beni alimentari, circa la metà, e da i beni energetici che sono circa un quarto di questo sotto insieme di prodotti. Abbiamo fatto qualche approfondimento, tra i prodotti alimentari a maggior tasso di crescita nel periodo di tempo compreso tra il 2019 e il 2023, figurano lo zucchero che fa registrare un aumento del 64,8%, il riso più 50%, l'olio di oliva 42,3%, la pasta secca 40,1%, il burro 36,5%, il latte intero 21,9%. Come vedete ci sono anche nelle colonnine più a sinistra, ci sono anche dei prodotti che hanno su questo periodo di tempo, su questo intervallo dei prezzi in calo, il peso dei prodotti con prezzo in calo è poco meno del 10% del paniere e oltre la metà di questo 10%, il 5,1% è costituita da prodotti che appartengono alla categoria degli altri beni. Anche in questo caso, guardando un po' nel dettaglio, tra i prodotti che hanno una maggiore flessione del prezzo ci sono gli apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di immagini e suoni che registrano un calo del 45,7%, gli smartphone con meno 36,7%. Questo per dire che anche in un periodo comunque di inflazione calante gli effetti permanenti sembrano piuttosto importanti, rilevanti e colpiscono, si concentrano su settori specifici del nostro paniere. Farei l'ultimo passaggio, che è quello che riguarda poi l'impatto sociale della variazione dei prezzi, facendo riferimento qui agli indici armonizzati, quindi tutta l'analisi precedente focalizza sull'indice NIC, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, qui consideriamo invece l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per il quale noi costruiamo e elaboriamo ormai da moltissimi anni, da diversi anni, degli indici, chiamiamoli satelliti, che sono calibrati su specifiche sottopopolazioni, individuate in base al livello di spesa, quindi la popolazione è stata divisa in 5 sottogruppi sulla base della corrispondente spesa equivalente, dal primo gruppo le famiglie, il sottogruppo delle famiglie che hanno livelli di spesa equivalente più basso, al quinto gruppo che sono rappresentati, che includono le famiglie con la spesa equivalente più elevata. Tra il 2019 e il 2023 l'indice armonizzato registra una variazione del 17,2%, come sapete tra l'indice armonizzato e l'indice NIC ci sono delle differenze negli andamenti che riflettono le differenze concettuali e anche metodologiche che sono la base del calcolo di questi indici. Nello stesso arco di tempo la crescita accumulata dell'indice generale che è calcolato per la prima sottopopolazione, quella composta dalle famiglie con minore livello di spesa equivalente è risultata pari al 21,7%, mentre per l'ultimo gruppo di famiglie, quelle con livelli di spesa più elevati, il tasso accumulato di inflazione tra il 2019 e il 2023 è pari al 15,2%. Queste differenze naturalmente si spiegano per il fatto che le componenti, i prodotti che hanno spinto di più l'inflazione nella fase di accelerazione sono quelli energetici e beni alimentari, per capirci, sono quelli che poi alla fine assorbono una quota maggiore del bilancio delle famiglie che hanno livelli di spesa più basse rispetto a quanto invece non accada per le famiglie che hanno capacità di spesa più elevati. In questo lo vediamo in particolare, scendiamo un po' nel dettaglio, differenziali di inflazione più ampi tra la prima e la ultima sottopopolazione registrano infatti per i beni energetici che hanno 69,6% nel primo gruppo di famiglie e 56,1% nell'ultimo, per i servizi vari 9,3% nel primo gruppo 6,5% nell'ultimo e gli alimentari lavorati che sono accresciuti del 20,9% per le famiglie che possiamo considerare meno abbienti e più 18,5% invece per le famiglie che hanno una capacità di spesa più elevata. Troviamo anche esempi contrari, in particolare la dinamica dei prezzi su questo periodo è risultata più marcata per l'ultimo gruppo di famiglie per quanto riguarda gli altri beni con un più 11,1% contro il 7% delle famiglie che invece appartengono alla prima sottopopolazione. I servizi rilettri ai trasporti che sono cresciuti dell'11,8% per l'ultimo gruppo e 8,9% per l'ultimo e i servizi ricreativi culturali per la cura della persona che hanno fatto registrare un aumento del 14,1% per le famiglie più abbienti e contro l'11,9% della variazione registrata invece per le famiglie con livelli di spesa più bassi. Perfetto, grazie Alessandro. I colleghi sicuramente avranno colto ci sono alcuni aspetti piuttosto significativi, ne propongo un paio, cioè a fronte di un indice armonizzato che ha avuto una crescita accumulata di 17,2% per il quintile più povero con una capacità di spesa più povera della popolazione c'è un differenziale di 6,5 punti rispetto al quintile più alto e questo è significativo in termini di impatto sociale. L'altra cosa che mi sembrava significativa evidenziare, Alessandro se sei d'accordo, è che abbiamo sul trascinamento 20,24 a fronte di 1,01 che riguarda l'indice generale, entriamo nell'anno nuovo con un trascinamento sugli alimentari non lavorati che è 1,1,9 e sugli alimentari lavorati che è 0,9, i beni alimentari in generale esprimono un trascinamento di 1,3, quindi diciamo che l'anno parte bene perché abbiamo un'inflazione praticamente zero di eredità dal 2023, ma per il cosiddetto carrello della spesa la storia potrebbe essere anche un pochino diversa perché comunque partiamo su dei valori maggiori, o no? Sì, questo è sicuramente vero e riflette il fatto che comunque la fase di rallentamento come dicevo non è stata omogenea, si è inflazione rallentata soprattutto per il recupero, il forte generale energetico finora, nel senso che poi per il futuro bisognerà vedere, l'anno sembra chiudere un ciclo dell'inflazione ma gli elementi di incertezza che ci sono naturalmente non lasciano prevedere se poi alla fine un ciclo si sia effettivamente chiuso, ovvero è appunto come dicevamo che nel caso degli alimentari, nonostante il rallentamento che c'è stato nell'ultimo, 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 nell'ultima parte finale dell'anno resta un effetto di trascinamento, come dicevamo, dell'inflazione al 2024 che è relativamente marcato insomma, quantomeno è ben più elevato di quello che si registra per l'indice generale. Perfetto, allora lo spazio per le domande si apre adesso, per cui tutti i colleghi che vogliono possono proporre domande ad Alessandro, ecco Valentina Consiglio di Reuter, prego vai Valentina. Buongiorno a tutti, io volevo chiedere due cose, ha finito adesso il dottor Brunetti dicendo che appunto non sappiamo adesso per il 2024 quale può essere l'effetto di trascinamento, sappiamo che è basso per l'indice generale, però c'è questa componente degli alimentari che lascia un'eredità e non sappiamo quale poi sarà il futuro andamento. Mi domandavo però, guardando anche squisitamente il mese di dicembre, la nostra inflazione è molto più bassa rispetto a quella evidenziata dall'Eurozona che è poco sotto al 3% e questo è dovuto, mi corregga se sbaglio, principalmente a un effetto statistico positivo legato al fatto che nel confronto annuo i beni energetici in Italia non erano cominciati a calare così come nel resto dell'Eurozona un anno fa e quindi sostanzialmente questo ci favorisce. Ora però mi chiedo, con la fine degli incentivi sui bonus vari, bonus energie eccetera, voi prevedete in qualche modo che il nostro tasso di inflazione così basso allo 0,6 tenderà un po' a riallinearsi a quello dell'Eurozona? Mi aggancio a questa domanda per chiedere anche se in qualche modo avete stimato l'impatto che potrebbero avere i problemi legati alla situazione nel Mar Rosso e quindi il tema dell'approvvigionamento, un'eventuale pressione all'aumento dei prezzi delle materie prime e non solo e se questo potrebbe essere un altro elemento che insomma potrebbe nonostante l'eredità quasi nulla che ci arriva dal 2023 portare a delle pressioni sul 2024. Non so se sono stata chiara, un po' troppo particolata la domanda. Assolutamente, grazie Valentina. Adesso do subito la parola ad Alessandro se intanto si vogliono prenotare altri colleghi. In particolare per quello che dicevi tu prima segnaliamo che i beni energetici nel loro insieme entrano nell'anno con un trascinamento negativo di quasi 8 punti, quindi questo fa sperare sul fatto che se ci saranno degli effetti saranno in corso l'anno. Corretto? Sì, direi intanto per il confronto con la media dei paesi dell'area dell'euro direi che quello che stiamo vedendo è un effetto in certi versi speculare a quello che si era visto prima. Noi siamo cresciuti più rapidamente perché l'impatto della crescita dei beni energetici sul nostro indice è stato relativamente più marcato e adesso nella fase di discesa scendiamo, siamo scesi più altrettanto, diciamo più rapidamente. Se questo prelude a un proseguimento della fase di rallentamento dell'inflazione anche spinta dall'andamento dei beni energetici o se fattori che intervengono di natura esogena, parliamo dell'incertezza legata all'evolversi di crisi a livello internazionale o dell'impatto di invece decisioni che eventualmente riguardano appunto dal sostegno alle famiglie maggiormente in difficoltà. Questo in parte è difficile perché appunto noi non facciamo esercizi di previsione e quindi non costruiamo scenari che descrivano l'impatto dell'evolversi della crisi internazionale sui nostri prezzi e per quanto riguarda invece l'effetto di interventi, chiamiamoli così, di politiche sociali da parte del governo direi che a poco meno di un paio di settimane dall'uscita del nuovo indice noi non manteniamo un certo riservo. Se in attesa di eventuale qualche altra domanda io propongo una curiosità, un'ulteriore curiosità statistica a chi sta seguendo questo briefing. Quando Alessandro prima ha illustrato l'andamento del NIC dentro il NIC con i quartili e la mediana eccetera, un aspetto interessante è che stiamo parlando di quattro anni e di quattro panieri. Quindi diciamo l'istituto ha attraversato questo episodio di inflazione con quattro panieri che a loro volta si sono aggiornati, hanno vissuto appunto momenti di sostituzione. Forse è una riflessione anche questo dal punto di vista della produzione. Dalla 19-20 all'ultimo paniere 23, lo dico perché tra meno di un paio di settimane, tre settimane presentiamo il nuovo paniere 20-24. C'è qualche curiosità che possiamo dire? Più che curiosità io vorrei dire che diciamo dover far fronte a una situazione, ma questo è più legato alle implicazioni dell'emergenza sanitaria che si è creata nel 2020, per fronteggiare un cambiamento anche nelle abitudini di consumo delle famiglie così netto e imprevisto, imprevedibile per certi versi. Questo può essere una cosa interessante da riportare. C'è stato, non solo in Italia, è stato un lavoro coordinato dall'Eurostat, uno sforzo per adeguare tutta una serie di strumenti all'uso di dati più tempestivi possibili, proprio per avere un quadro maggiormente aderente al tipo di cambiamento della situazione che la pandemia aveva portato, quindi dalla definizione del paniere alle tecniche, diciamo così, di stima dei pesi dei diversi prodotti. Mauro Antonelli, prego. Mauro, si apri il microfono puoi fare la domanda. Ecco. Non si sente purtroppo, porca misera. Scrivici la domanda in chat e te la leggiamo noi. Grazie. Se intanto ci sono altre domande... Rosario Amato di Repubblica, grazie. Buongiorno. Ricollegandomi a quello che avete appena detto, volevo chiedere se ci sono dei cambiamenti non definitivi, perché non c'è niente di definitivo, ma dei cambiamenti acquisiti nella ponderazione delle varie categorie di beni, cioè se dopo tutto questo periodo c'è qualcosa che è cambiato strutturalmente per il momento. Almeno per quanto riguarda l'esperienza degli ultimi anni, appunto, noi ci siamo confrontati con un rapido e abbastanza rilevante cambiamento delle strutture di spesa delle famiglie nel 2020, per ragioni diciamo che sono note a tutti e quello che abbiamo visto è che si riflette un po' se si guarda all'andamento del sistema dei pesi degli ultimi anni e c'è un progressivo riavvicinamento, poi adesso quest'anno vedremo perché gli effetti di prezzo hanno anche loro una rilevanza nella determinazione dei prezzi, però negli ultimi anni, quello del 2021 fino allo scorso anno, quello che si è potuto vedere appunto e si evidenzia mettendo a confronto le strutture di ponderazione, è un parziale, progressivo riavvicinamento delle quote di spesa ai livelli pre-covid, per capirci. Allora, la domanda di Mauro era per il confronto tra il 19 e il 23, che mesi avete confrontato? Media 19, media 23 oppure perché c'era scritto tendenziale nel grafico? Allora, il confronto è quello tra la media, poi dipende naturalmente dai grafici a cui fa riferimento, però l'effetto cumulato è misurato mediante la variazione della media del 23 rispetto alla media del 19, gli effetti cumulati, invece nelle figure in cui si mostra l'andamento della diffusione, il peso delle componenti che hanno avuto variazioni più o meno moderate, lì il riferimento è ai tassi tendenziali mensili, compresi nell'intervallo, questo intervallo di tempo, quindi 2020-2023. E lui aggiunge ora olio e zucchero? Ora aggiunge olio e zucchero, nel senso vale? No, quella è la media, sì, ma tendenziale non è necessariamente, per noi la variazione tendenziale è una variazione che comunque in generale noi la riferiamo perché quello facciamo usualmente da un anno all'altro, quindi è la variazione che si misura da un periodo al periodo precedente dell'anno, quindi il tendenziale mensile è la variazione dell'indice misurata tra un mese di un anno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente o della media dell'anno rispetto allo stesso periodo, quindi alla media dell'anno precedente, qui l'unica differenza è che l'intervallo copre un periodo di tempo che si estende oltre l'anno, però comunque per essere chiari le variazioni che ci dà o dell'olio, del riso e degli altri prodotti sono variazioni che si misurano tra la media del 23 e la media del 19. Perfetto, grazie Alessandro, non vedo altre domande al momento, un altro tema che di sicuramente interesse perché lo abbiamo vissuto proprio adesso nel passaggio diciamo d'anno, riguarderà anche quest'anno l'andamento degli energetici regolamentati e non regolamentati, come sapete Arera ha stabilito sulla base di una serie di aste dei prezzi che sono risultati più bassi di quello che ci si aspettava, per cui se volete un ulteriore settore dei servizi molto sensibile che ovviamente caratterizzerà l'inflazione dell'anno che si è appena aperto, ma come dicevamo stiamo partendo qui con trascinamenti negativi, corretto? Sì, è il risultato del fatto che l'andamento dei prezzi dei beni energetici mostra un chiaro trend in discesa e quindi il punto di approdo dicembre dell'anno scorso che poi costituisce il punto di inizio della nuova serie degli indici è ben al di sotto del dado medio. Diciamo che rispetto anche a quello che la domanda che faceva prima la collega di Reuter a cui adesso restituisco la parola, vedo che ha rialzato la mano, non so se, diciamo che dal punto di vista di chi deve fare la scelta di agire sulla leva dei sussidi pubblici per il contenimento delle bollette, appunto, l'inizio dell'anno è piuttosto promettente dal punto di vista statistico perché entriamo con delle variazioni che sono di eredità bassa. Valentina, prego. Scusa, approfitto per tornare un attimo sul punto, visto che ci sei tornato. Se potevate chiarire meglio l'effetto di trascinamento sul 2024 negativo è o meno, è negativo per quanto l'effetto di trascinamento degli energetici sul 2024. Ora diffondiamo quest'ulteriore materiale informativo appena finiamo la conferenza stampa, ma prego Alessandro. Allora, una serie di precisazioni intanto su questa cosa. Allora, l'effetto di trascinamento dei beni energetici è meno 7,9%. Allora, intanto, giusto un dato tecnico per chi poi legge il comunicato e magari noi anticipiamo così delle domande che ci potrebbero arrivare invece nella giornata di oggi o nei prossimi giorni. La scomposizione tra inflazione ereditata propria in particolare non è una scomposizione additiva. Noi facciamo un'approssimazione quando descriviamo il tasso di inflazione come scomposto additivamente in una componente propria di un componente ereditata. Questo perché il fattore di approssimazione generalmente è molto piccolo, ma quando ci sono andamenti così, oscillazioni così forti, l'effetto di approssimazione può essere rilevante. Questo chi avrà, diciamo, la pazienza di mettersi a spulciare i numeri se ne potrà accorgere. Fatto questa precitazione che, ripeto, serve solamente magari a fornire una risposta a domande che ancora non ci sono state poste, ma che con tutta probabilità qualcuno avrebbe comunque posto. Venendo al caso dei beni energetici, allora la questione è, certo, se guardiamo al dato relativo al trascinamento, chiaramente la dinamica che hanno avuto i prezzi dei beni energetici nel corso di quest'anno e che produce questo effetto di trascinamento, quindi un tesoretto negativo che ci troviamo per l'anno successivo, può far ritenere che tutto sommato questo possa essere un momento per modificare gli interventi a sostegno delle famiglie che sono maggiormente in difficoltà, però vorrei richiamare l'attenzione su due aspetti, intanto sul fatto che comunque l'impatto della crescita dei prezzi non è uniforme su tutte le famiglie come abbiamo fatto vedere e quindi in realtà, questo è un dato medio, ma poi alla fine bisogna vedere esattamente quanto pesa la variazione dei beni energetici e poi il fatto che comunque questa variazione che noi leggiamo così con un valore negativo così forte va ricordato che si confronta con gli eccezionali aumenti che sono stati registrati l'anno scorso, perché se guardiamo gli effetti cumulati ci accorgiamo che i beni energetici comunque rispetto al 19 ancora risultano più elevati del 50 e passa per cento, quindi bisogna anche vedere bene da quale prospettiva si stanno analizzando questi andamenti, quindi se guardiamo a quello che è successo nel 22-23 oggi siamo in una fase di forte discita dei prezzi che ci appunto consente di avere questo vantaggio diciamo così nel 2024, però questo recupero così forte comunque va anche valutato facendo riferimento ai livelli che c'erano nel periodo precedente. Certo, questo è giustamente, mi scusi se intervengo ancora, è chiaro che è un punto di vista giusto nel senso che se il riferimento è più 50% dal 2019, però diciamo fermandosi a un'ottica di più breve periodo, osservando bene il 2023, il tema è tutto legato al fatto che questo grosso ribasso si deve al fatto che prima, cioè nel 2022 erano saliti talmente tanto i prezzi dell'energia, quindi però anche diciamo se si va a vedere la media rispetto al 2022, se si va a vedere in realtà la core, cioè al netto degli energetici e degli alimentari freschi, l'inflazione di fondo in realtà rispetto al 2022 aumenta, perché i prezzi crescono del 5,1 dal 3,8 del 2022, è così no? Quindi in realtà effettivamente possiamo dire che il punto centrale di questo andamento è comunque tutto legato agli energetici, o mi sbaglio. Le grandi fluttuazioni che abbiamo visto sono sicuramente il frutto dell'impatto della crescita e poi del rallentamento, del calo dei prezzi dei beni energetici, non è l'unica componente che ha attraenato l'inflazione, gli alimentari sono anche un elemento diciamo importante nella spiegazione del ciclo dell'inflazione che abbiamo vissuto, hanno avuto una crescita più costante, i beni energetici hanno cominciato a diminuire fin dalla fine del 2022, i beni alimentari no, c'è stato bisogno che passasse il primo trimestre del 2023, un rallentamento sicuramente più lento che si è leggermente accentuato nella parte finale dell'anno, questo diciamo si accompagna anche con una evoluzione dei prezzi dei servizi che al di là delle componenti anche qui relativamente volatili, che più affette da fattori di stagionalità comunque mostra una certa inerzia negli andamenti, per cui questo poi si riflette appunto nel modo con cui si muove la componente di fondo, anche la componente di fondo nell'ultima parte dell'anno ha cominciato a rallentare, questo può essere visto come un elemento sicuramente positivo nel caso della componente di fondo il trascinamento, quindi come dire, intendendolo come acquisito è brutto però, intendendolo come l'acquisito del 24 a dicembre più 0,8% Ecco Alessandro, tra l'altro un aspetto interessante è che la componente di fondo a fronte di un'inflazione propria di appena 5 decimali sull'indice generale, invece la componente di fondo ha registrato un'inflazione propria nell'anno 2023 dello 2,4%, quindi ecco questo è sempre il ragionamento della composizione, di questo effetto composizione dell'indice. Bene, se non ci sono altre domande, noi abbiamo passato quasi un'ora con voi, il materiale che ho detto abbiamo preparato, che va oltre il comunicato di questa mattina delle 10, adesso verrà diffuso a tutti i colleghi che hanno partecipato alla conferenza stampa, la stessa conferenza stampa è registrata e la trovate sia sul canale YouTube Istat, sia sul sito a beneficio per esempio delle radio se vorranno prendere dei brani. Dicevo prima, il credo prossimo appuntamento che su questo argomento particolare preannunciamo è sicuramente quello con il nuovo paniere, che è nei primi giorni di febbraio e a quel punto vediamo anche come è effettivamente partito l'anno con quello che succede nel mese in corso di gennaio. Ci fermiamo qui, inviamo a tutti il materiale che abbiamo presentato e grazie ancora per tutti quelli che hanno partecipato in presenza e da remoto. Grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Arrivederci.